Ci eleviamo la prima domenica di Quaresima. Sappiamo bene che la Quaresima è un periodo di 40 giorni che ci prepara alla Santa Pasqua. In un modo particolare la Chiesa ci invita alla conversione. Abbiamo iniziato con il mercoledì delle ceneri, con l'atto penitenziale delle imposizioni delle ceneri, un cammino di conversione con il digiuno, con l'astinenza, ma soprattutto con l'ascolto della parola di Dio, quella parola di Dio che ci invita a ritornare a Lui. Laceratevi il cuore, non le veste. Ritornate a me, dice il Signore, così nel profeta Gioele, ritornare al Signore. Allora tutta la Quaresima è un cammino di ritorno al Signore che ci aspetta, che ci dà anche la grazia di poterlo incontrare. perché è la cosa più triste del mondo è quando noi non incontriamo Dio nella nostra vita, perché Dio può anche nascondersi dalla nostra vita. Quando noi diamo adito a tutte le nostre passioni e pensiamo con il nostro orgoglio di farcela da soli, beh, quello è il momento veramente terribile della nostra vita. Nella prima lettura abbiamo ascoltato dal libro della Genesi l'alleanza che Dio ha fatto con Noè. Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza. Tutta la Sacra Scrittura è la storia dell'alleanza. Noi chiamiamo anche la Sacra Scrittura il Vecchio e il Nuovo Testamento. Che cosa significa la parola Testamento? Significa alleanza. Dio continuamente rinnova questa alleanza con l'uomo e in Gesù si compie l'alleanza. Fra poco noi ascolteremo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, il calice della nuova ed eterna alleanza, la nuova ed eterna, definitiva alleanza in Gesù. La parola alleanza significa patto, significa a un certo momento una decisione reciproca da parte di Dio, da parte dell'uomo. Voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. Se voi osservate la legge, dice Dio a Mosè, ecco io sarò il vostro Dio, sarò il vostro liberatore, sarà la vostra benedizione. Voi vivrete nella verità, nella gioia, nella luce e sarete fecondi. L'alleanza. Esiste l'alleanza matrimoniale e continuamente i profeti quando parlano dell'alleanza tra Dio e l'uomo si rifanno proprio alla terminologia dell'alleanza sponsale. E il peccato, è proprio il peccato di tradimento, è come il peccato di adulterio, quando una persona si allontana da Dio per seguire altri amori, che non sono gli amori veri, che riempiono il cuore dell'uomo. E allora Dio vuole fare alleanza. In questo tempo di quaresima, ecco, viene richiamato proprio questo concetto. Tu vuoi ritornare a me? Allora pensa una cosa, che io ti sto facendo un dono, io voglio fare alleanza con te. Accogli questa alleanza, fa che io possa entrare nella tua vita, anche tu entra nella mia vita. Vogliamo entrare in una comunione vera, profonda, bella, luminosa? Bene, è possibile. E questo è quello che il Signore vuole da noi. Un ritorno a Lui fatto da amore. Perché Lui vuole riempire il nostro cuore. Noi, il tabernacolo di Dio. Noi, il vero Tempio di Dio, che vuole essere adorato in spirito e verità. Sì. Allora conversione significa proprio questo, saper incontrare ancora una volta Dio nella propria vita, in un modo pieno, luminoso, ricco. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Questa è la conseguenza. Quando io incontro il Signore nella mia vita, i Suoi sentieri sono amore e fedeltà. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, abbiamo pregato. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato Pietro, la prima lettera di Pietro, che fa un riferimento a Noè, fa un riferimento all'acqua, l'acqua del battesimo. Quest'acqua salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è in vocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Il battesimo. Vogliamo farci santi? Viviamo il battesimo. Vogliamo farci santi? Ricordiamo la verità del santo battesimo, che ci ha lavati da tutto ciò che è nonno, verità, non giustizia, non santità, e ci ha riportati alla vita nuova, ci ha fatto rinascere nello spirito. Noi siamo una realtà nuova. Ecco il santo battesimo. Allora, vivere il battesimo significa prendere coscienza di questa realtà nuova che il Signore vuole realizzare in noi, ha già realizzato e realizza ogni giorno. Vivere il battesimo è l'impegno prioritario del cristiano. E quando io vivo il battesimo percepisco di essere figlio di Dio, amato da Dio, di far parte di una chiesa, di avere una fede, una speranza, una carità. Questi doni che Dio ha donato a me perché io possa, attraverso questi doni, raggiungere la pienezza della vita divina in me, la santità. Nel Vangelo invece abbiamo ascoltato Gesù che viene tentato, Gesù che proclama il Vangelo di Dio. Questo nostro cammino di conversione, ecco, sappiamo molto bene che la tentazione è alla portata di tutti i giorni. Anche Gesù, per amore nostro, ha accettato di essere tentato. Notate, lo Spirito, lo Spirito Santo, sospinse Gesù nel deserto e lì fu tentato da Satana. Potremmo benissimo anche interpretare che la tentazione in Gesù è come una volontà di Dio. Così è anche la tentazione nella nostra vita. Non viene da Dio la tentazione, nessuno dice, dica che Dio tenta, dice San Giacomo. Lontaneci dalla tentazione, diciamo, nel Padre Nostro. È il diavolo che porta la tentazione, genera la tentazione. Però la tentazione va a parte della pedagogia di Dio. Superando la tentazione, ossia la prova, noi possiamo dare testimonianza a Dio della nostra fedeltà e nello stesso tempo noi cresciamo nella vita dello Spirito dopo aver superato la prova. Superare la tentazione è come fare palestra nella nostra vita, che ci fortifica. Ma Gesù ha superato la tentazione facendo sempre riferimento alla parola di Dio. Abbiamo ascoltato non di solo pane, vivra l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E allora, in questo processo di conversione, la parola di Dio deve avere una sua centralità. Gesù proclamò il Vangelo dicendo Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Sono quattro espressioni che sono tutte collegate l'una all'altra. Il tempo è compiuto, è il tempo della grazia, è il tempo della misericordia, è il tempo della salvezza. Ecco, Dio attraverso Gesù proclama questo è il momento della tua salvezza, questo è il momento del tuo recupero, questo è il momento della tua crescita, il momento importante della tua vita. Perché c'è questo Regno di Dio che è vicino. Il Regno di Dio sarebbe la stessa presenza di Gesù nella vita dell'uomo, nella storia. Dio è vicino, ecco perché il tempo è importante, recepire l'importanza di questo momento, di questo cairosso, di questo momento di grazia. Dio è presente, è presente nella tua vita e proprio per questo convertiti. Ma notate, questa conversione in primo luogo è una conversione di fede, convertiti a questo Dio che è vicino a te. La conversione è etica, ossia evitare tutto ciò che è peccato è una conseguenza, perché la prima conversione è questo andare a Dio, volgere il proprio volto, il proprio cuore, i propri occhi, della mente e di tutto di sé a Dio che è vicino a noi e ci offre questa bella notizia, questo Vangelo che Lui ci ama. Credete nel Vangelo, una conversione di fede, dicevamo, sì, credete. Gesù quasi insiste su questo tema. La cosa più importante è credere. Prima ancora della stessa prassi della vita è credere. La prassi poi sarà una conseguenza di questo credo, in questo Dio che ci offre questa bella notizia che Lui è vicino a noi. Nelle prossime domeniche ascolteremo altri motivi che devono essere alla base di questo cammino di fede verso il Signore. Abbiamo iniziato dicendo, Dio ci invita, ritornati a me con tutto il cuore, e il cuore, la centralità del cuore. E ancora una volta noi ti diciamo, Signore, dal profondo del nostro cuore, grazie. Grazie che ci chiami. Amen. Amin.